Allora, cominciamo con la 10 chilometri maschile, al primo posto per la Pro San Pietro Sanremo, Corrado Bado, se lo faccio a lei arriverà, speriamo. Eccolo qui, premia il sindaco della città di Montimiglia, dottor Ioculano. Allora, al secondo posto, David De Marti, a Especetemis. E' la deuxième place, David De Marti, a Especetemis. Eccolo qua dietro. E al terzo posto, dello stesso club, i francesi ci hanno fregato questa volta, secondo e terzo, sempre per l'Especetemis, Ancelot Lecan. E questo è il podio internazionale. Ha vinto la 10 chilometri di Ventimiglia, Ornella Ferrara, della PDM. Atleta nazionale, ha partecipato alla Mondiale e all'Impiedi, prendendo anche una medaglia. Eccola qui, Ornella Ferrara. Grazie Ornella di essere venuta da noi. I campioni fanno piacere anche nelle gare fatte per solidarietà. Al secondo posto, dall'Olanda, Anita Josias. Dall'Olanda. Siamo in una zona turistica e i turisti devono prendere il treno. Eccola lì. Al terzo posto, Donatella Lauria, che è anche consigliere regionale della FIDAL. E comunque, Arianna, non andare via, perché sei la prima junior. E il premio del cambio-frequenzimetro è per te. Anche Arianna Pisano vicino al podio, che riceve il premio fatto dal Decatur. E ti tu lì, pringerà la sindaco. E questo è il podio della FIDAL. Anche Arianna Pisano. Anche Arianna Pisano. Anche nutriinä. Anche Arianna Pisano. Anche Arianna Pisano. Grazie a tutti.